I colori, soprattutto, rendono questo posto tra i più belli della costa levantina. Chi non lo sa non può immaginare che qui al canalone del rio ci scherichi un depuratore. Gli abituai sfidano il divieto di balneazione che è doppio ma ben riportato sul cartello, uno per il pericolo crollo delle falesi e l'altro per lo sbocco dei reflui. Sulla carta l'intera insenatura è inaccessibile, ma tant'è. Uno striscione dal testo eloquente negli ultimi giorni è apparso per ricordarlo a tutti il paradosso di Tricase. 6 milioni di euro di fondi europei sono stati spesi per l'impianto di affinamento che avrebbe consentito di riutilizzare le acque in agricoltura. È fermo, pronto da anni, ma mai collaudato. I lavori sono del comune e dovrà essere gestito alla fine assieme al consorzio di bonifico Gentoli Foggi, ma dopo un'acquazione di quattro anni fa si sono rotte le vasche. Ne è nato un contenzioso interminabile con la ditta, un rimpallo di responsabilità e ora serviranno altri 150 mila euro per sistemare il tutto. A questo punto abbiamo dovuto trovare le risorse per ricostruire la vasca. E comunque niente ha a che fare con la qualità dell'acqua che noi abbiamo qui. Arpa Puglia ci manda ogni sei mesi le relazioni sulla qualità dell'acqua. E le mando gli sei mesi perché non hanno mai trovato di servizi. Lo confesso e spero che questo non venga considerato un'autodenuncia, che molto spesso arrivo qui a fare il bagno, anch'io a nuoto da quella parte. E' ottimista il sindaco Antonio Coppola. Il prossimo anno l'impianto partirà, ma comunque il divieto di balneazione è costretto a rimanere. Non c'è alcun problema ambientale per lo scarico. Queste foto scattate il 10 luglio scorso però immortalano la schiuma abbondante e dicono che il lavoro da fare è ancora tanto. Utilizzare una risorsa del genere come scarico fognario è un paradosso al giorno d'oggi. Quando poi si investono tante forze sia economiche che umane nell'intento di sviluppare un settore come quello turistico per poi distruggerlo con un'opera del genere. Non è una protesta contro qualcuno ma il nostro silenzio sarebbe complice. Per questo non stiamo zitti dicono del Comitato Stop Inquinamento. Troviamo Giulio Sparacio, presidente nazionale di Turismo Verde, tra i suoi pomodori lasciati seccare al sole. Lui, tra l'arsura di queste campagne, se lo ricorda l'arrivo dell'acqua una mattina di maggio del 2009. Sembrava la svolta, poi nulla più. Non basta mettere il tubo e se riga. Dovrebbe uscire da là. Aprire questa, bisognerebbe aprire, ecco. Da quel modo dovrebbe uscire l'acqua. Il nodo è proprio questo. Mentre l'infrastruttura, costata milioni di euro, continua a invecchiare senza essere utilizzata, il canalone del rio resta anche d'estate. Ostaggio del depuratore e 450 ettari di campagna rimangono a secco e non c'è altra possibilità. In questa zona è vietato perforare i pozzi, la falda dolce rischia l'intrusione salina. Il territorio è l'unico, diciamo, luogo in cui possiamo scrivere il nostro destino. Per fare questo non possiamo più ormai pensare di risolvere i grossi problemi che abbiamo con le aspirine. Quando abbiamo questi macigni che non ci fanno più, diciamo, non ci danno la possibilità di progettare futuro. Il prossimo anno, forse chissà, l'acqua arriverà e sarà già tardi.